Ciao ragazzi, adesso stiamo andando dai cinesi a Santa Maria e poi dobbiamo vedere se andiamo alla Pamma a prendere il miele per noi, che era la zia, Mara. Questa è la Tuceno, Craveggia e la Santa Maria in discesa. Siamo seduta sulla panchina. Speriamo che la spacchi. Guardate le mucche, guardate le mucche. Questa è la scossa, la tocchiamo. No, Craveggia, io no. La Nina e la pizza. Manca la Santa Maria. Ciao amore! Mi hanno ragazzo? Mi posso portare uno a casa. Sono troppo grosse, non ci entrano dalla porta poi. Siamo sempre sulla strada, però costeggiamo un mucco. Ha la fontanella, molto carina. Tutti di mia mamma. Così. Siamo giù a Bouton. Siamo giù a Bouton. Siamo giù a Bouton. Siamo giù a Santa Maria. Adesso facciamo il centro. Vi facciamo vedere com'è il centro. Il giorno feriale. Il centro di Santa Maria, maggiore nei giorni. Stiamo andando alla chiesa qua di Santa Maria. Feriali. Eh, no feriali. Sì. Settimanali, feriali, non festivito. Siamo giù ai mercatini di Natale. Che saranno tra il 9 e il 11 di ottobre. Mi sembra, non lo so. Dal 9 al 12. Wow, guarda qua, l'angolino souvenir. Questi prezzi buoni. Quest'anno li vediamo anche noi per la prima volta. Sono prezzi buoni. Siamo andati a prendere la cosa, no? Sì. Guarda che carino. Rispetto agli altri negozi questo è buono. 94. Siamo in legno. 8 euro quello. 8 miliardi. 8 euro. Sarebbero bene sul cosa, sì? Questi sono 16. 4. 9. 19 è stato l'arnaio. 4,50 euro la shop di Spazzacamini. C'è anche la festa di Spazzacamini a settembre. E niente. Questa. 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 Questa testa tutta rotta. Questa protegge. Questa salvag Asia insafredenza. Sì. L실�. Siamo in una pista ciclabile, eh? Non lo so. Sì. Una pista ciclabile di Santa Maria Maggiore. Sì. Sì. Pr 테 Vera. Sì. Si está in Vampinden. Adesso quando faremo lascia ilелю made in Spazzotom. Siamo in una pista ciclabile, non lo so, una pista ciclabile alla fine di Santa Maria Maggiore e poi c'è Travegia, Siberia, in frazione di Travegia. Si stavi in Bambin Deni. Adesso quando passiamo vicino alla Pam facciamo vedere. Quasi la Pam, adesso si intravede la Pam, adesso la inquadrono. La Pam o il Pam? La Pam si deve mettere a fuoco. Va bene, si mette a fuoco. La sopra cos'è? Toceno, forse è anche Travegia ma non lo so, forse è Toceno e Travegia insieme, non lo so, non conosco ancora bene, forse è tutto Toceno questo e là c'è Travegia. Ma ci sono due chiese perché... Forse è quello Toceno e quella Travegia. Non lo so, vabbè. Vabbè, niente. Qui lì ci sono un sacco di case su per le montagne, quello mi sa che è il rifugio Blitz, quello di là. Sì, quello di là. No, quello di là, no. C'è anche un agroturismo lì. Quello, mi sembra, che noi vedevamo quello lì. Sì, c'è un padorama fantastico. E poi là. Poi là ci sono delle carte, vabbè. Arvogno non si vede. Forse lì è Arvogno. Dove si sa la Granada Arvogno. Ah, sì, sì. Forse. Vabbè, è... La fama. Si, Travegia al logo. Fam. Queste sono le ventole che... Ai prezzi così così. Sì, no. Ne va a prezzi tutto a meno. Vedete la mucca lì? Vedete? La mucca. Non so cosa si fa. Non so cosa si fa. Dovrebbe essere prezzi tutti a meno. No, prezzi a meno. Ehm... 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 Ehm...